con noi sei online domani venerdì 18 settembre nel salone europa del padiglione italia di caespo 2015 a milano per tutta la giornata salirà in cattedra la quinta edizione del forum internazionale della dieta mediterranea organizzato dal ministero delle politiche agricole dalla camera di commercio d'imperia e dall'azienda speciale promo imperia importantissimo simpose è stato presentato alla stampa internazionale dal presidente del forum internazionale dieta mediterranea enrico lupi dal vice ministro all'agricoltura andrea olivero e dal dottor dario cartabellotta responsabile cluster bio mediterraneo forum dieta mediterranea 18 settembre 2015 all'expo di milano il futuro del pianeta la nostra alimentazione enrico lupi presidente del forum del 2015 a milano della direta mediterranea ecco un avvenimento importante che accende tutti i riflettori nazionali liguri internazionali su questo forum che sta andando alla grande direi che abbiamo avuto un grandissimo risultato soprattutto per il nostro territorio per la camera di commercio d'imperia che è stata promotrice ormai da quattro anni di questo forum internazionale abbiamo colto il significato della dieta mediterranea bene materiale dell'umanità sancita dall'unesco e il valore è che il ministero delle politiche agricole ha fatto proprio questo nostro evento fino a farlo diventare elemento portante della giornata mondiale della dieta mediterranea nell'ambito dell'expo quindi una grande soddisfazione credo anche un grande contributo di cultura per tutti quelli che vogliono conoscere il messaggio dello stile di vita della dieta mediterranea ma anche strumento per le imprese il 18 settembre a milano nel padiglione della della liguria ci saranno grossi personaggi che allargeranno questi confini e parleranno soprattutto del presente e del futuro di quello che potrà essere la dieta mediterranea e tutte le eccellenze della riviera dei fiori direi che il panel è di altissimo profilo sono sette ministri dei paesi della dieta mediterranea le sette comunità e anche un panel di relatori scientifici che vanno dall'università alla sapienza di roma piuttosto che il ministero della pubblica e istruzione del nostro territorio ma anche esponenti del nostro territorio il professor massimo conio che è il primario dell'ospedale di sanremo di gastroenterologia insomma vi è un altissimo panel chiudono chiude i lavori il ministro martina nella serata e quindi abbiamo proprio il timbro se così posso dire del del ministero che sancisce questo grandissimo evento lei ha spiegato anche che tutto quello che succederà il 18 settembre a milano expo di milano tutta questa passerella di questi illuminari e gli imperiesi tutti quelli che potranno vorranno assistere potranno vedere tutto quello che succede in tempo reale all'interno della camera dell'auditorio qui della camera di commercio perché tutto quello che succederà sarà sarà trasmesso la videoconferenza sarà interamente trasmessa l'ingresso è libero quindi gratuito è libero e quindi potranno partecipare vedere tutto quello che succede a milano io vorrei presentare anche perché voi avete presentato questo documento questo volume molto interessante che è la dieta mediterranea atti del forum che si è svolto ad imperia il 13 il 16 novembre dello scorso anno un volume molto importante che fa il punto della situazione credo che sia importantissimo documentare con gli atti i lavori che vengono svolti quindi rimane questo lavoro questo testo quindi è a disposizione poi eventualmente per essere richiesto e credo che sia un contributo scientifico estremamente importante perché i simposi sono importanti ma poi bisogna lasciare la traccia questo è stato l'obiettivo e la finalità di questo sforzo obiettivo del forum 2015 che vede impegnate sette nazioni l'italia la grecia la spagna la croazia cipro marocco e portogallo come ha dichiarato il presidente lupi incentivare gli sforzi e fare il punto sui progetti in corso per la salvaguardia ed una sempre migliore valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio unesco non solo dal punto di vista nutrizionale ma anche economico culturale ed educativo con noi sei online